Osvaldo e la figlia di Maradona stanno insieme. Gianinna, 32 anni, è la nuova fidanzata dell'ex calciatore della Roma. Da tempo i gossipi volevano pazzi l'uno dell'altra, ora il 35enne ufficializza il legame condividendo la prima foto in coppia con tanto di dedica. Ti amo, scrive lo sportivo, ora cantante conosciuto con lo pseudonimo di Dani. L'argentino è cotto della figlia più giovane del pibe de oro e Claudia Villafane. Esce allo scoperto e pubblica il primo scatto con lei, Dani e il Pablo la tiene stretta a sé. I due sorridono raggianti. Si conoscono dal 2015, da quando Osvaldo, rientrato in Argentina, era andato ad abitare nello stesso lussuoso quartiere di Buenos Aires dove viveva pure lei. In quel periodo Dani era legato a Jimena Baron, da cui ha avuto il figlio Morrison. Con il trascorrere del tempo i rapporti tra i due sono notevolmente cambiati, ora sono innamorati. Prima di Dani Osvaldo, la figlia di Diego Armando Maradona è stata fidanzata con l'attaccante argentino Sergio Aguero. Dal 2008 al 2012, padre del figlio Benjamin. Osvaldo è un vero rubacuori. Papà di quattro figli. Gianluca, avuto dall'ex moglie Anna, e di Maria Elena Victoria, avuti dall'ex fidanzata Elena Braccini. Morrison nato a marzo 2014 dalla relazione con Jimena Baron, in passato è stato legato anche a Benedetta Mazza. Nel 2019 ha avuto una relazione nata ballando con le stelle con Vera Kinnumena. All'epoca ancora legata a Stefano Oradei, durata solo qualche mese. Nel 2020 ha avuto una breve rapporto con Constanza De Palma. 26 anni. Adesso nel suo cuore c'è solo Gianinna Maradona. Grazie a tutti.